Ciao a tutti e ben ritrovati, spero che abbiate passato una bella estate. Io mi sono preso un attimino un minimo di pausa qui dal canale, ma tra concerti e un minimo di vacanza con la famiglia che ci stava. Oggi voglio tornare a parlare di un argomento di cui sento parlare da un sacco di anni e a cui non voglio assolutamente trovare una risposta, però secondo me era carino così condividere la mia opinione. Da tanti anni io sento queste due fazioni, cioè chi fa musica originale e chi invece fa cover. Spesso chi fa musica originale critica chi fa cover perché dice comunque e diciamo si vince facile facendo cover, mentre invece chi fa cover dice guarda che fare cover è tutt'altro che facile. Sono due opinioni secondo me assolutamente condivisibili e secondo me nessuna esclude l'altra, in realtà non c'è una strada giusta, ma ne parliamo. Prima ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati e alla fine del video a mettere un mi piace se vi piace o a fare commenti. Voglio parlare di questa cosa perché in qualche modo mi ritrovo abbastanza in entrambe le situazioni, nel senso che sicuramente io ho fatto cover nella mia vita in un sacco di situazioni, ma mi sono anche trovato a spesso lavorare in maniera creativa, quindi a scrivere canzoni, a scrivere musical, a fare colonne sonore, ho fatto il mio disco di piano solo, be positive, anzi se vi fa piacere contattatemi. E quindi insomma sono sempre stato attivo un po' in ambo le situazioni. Allora è un dato oggettivo che chi fa musica propria si espone, si mette in gioco, e questo è un dato di fatto, quindi su questo non si può discutere, cioè è sempre un valore secondo me quando si fa musica propria, a prescindere dalla qualità della musica stessa. Per contro è vero che fare cover è tutt'altro che facile, perché può essere, sì è vero che magari si vince facile, perché è chiaro che facciamo con rispetto, questo lo dico, cover di Vasco Rossi, Liga Bue, piuttosto che non so di chi altri, ma comunque è chiaro che andiamo incontro al favore del pubblico. Chiaramente dipende però da come le facciamo. Chiaro che se facciamo invece un tributo ai Dream Theater, voglio dire, forse troveremo tanti musicisti ad ascoltarci, qualcuno magari anche che verrà per criticarci, quindi insomma è tutto un discorso molto molto relativo. Ma anche a fare appunto le cover di artisti pop ci vanno le abilità, bisogna saperle fare bene, bisogna saper ricostruire questi brani, che non è una cosa semplice. Faccio un esempio molto pratico, estremo. Qualche anno fa mi è capitato di sostituire un tastierista negli sneakers, che sono un tributo torinese, ma che gira Europa, bravissimi, che fanno un tributo ai Depeche Mode. Lì ovviamente si trattava di rifare tutte le parti precise precise, perché i Depeche Mode sono famosi per certi tipi di frasi, perché gli arrangiamenti sono curatissimi, quindi i fans si aspettano queste cose. Quindi io devo dire che mi sono estremamente divertito, a di là del fatto che siano degli amici, perché comunque il risultato sonoro era molto bello. Loro sono bravi, io dovevo inserirmi in una situazione in cui era tutto a posto, però le parti dovevano essere quelle. E ho cercato di fare assolutamente del mio meglio. Loro sono stati ultra professionali, mi hanno messo veramente nella condizione in cui vorremmo essere sempre. Per conto ci sono situazioni in cui invece, cito per esempio proprio Vasco Rossi, mi è capitato di sostituire tastieristi di Vasco Rossi. È chiaro che ci sono dei brani che comunque hanno delle parti che la gente conosce. Pensate all'intro di Alba Chiara, non è che possiamo inventarci una roba, la gente sente le prime note e identifica il brano. Ma ci sono anche situazioni in cui invece serve creatività. Faccio un esempio, sempre che mi riguarda, io suono da un sacco di anni con i 60-70 rock band, tributo è Deep Purple. Ora, intanto mi fa sorridere, qualcuno mi viene a chiedere, ma lì nell'accompagnamento cosa fai, no? Io dico, dipende da cosa fanno gli altri, nel senso che se c'è una band che ha un approccio di tipo jazzistico, passatemi il termine, sono proprio Deep Purple che usano l'approccio jazzistico nell'ambito rock. Sono una band che rende molto meglio dal vivo che in studio. Prova è Made in Japan, che è uno dei live più famosi della storia, della musica, direi che abbiamo detto tutto. Appunto lì magari ci sono parti che io o Fabrizio Fratucelli in particolare, che è il chitarrista, insomma, a cui entrambi magari su certi soli li rifacciamo uguali, perché sono belli, perché magari non sapremo fare di meglio, mentre su altri ci prendiamo tutte le libertà del caso. La creatività c'è, anzi mi sento di dire che se c'è una parola d'ordine che a prescindere da quello che facciamo è importante la creatività. Io sono il primo che ama mettere del proprio, anche in situazioni dove apparentemente faccio delle parti standard, come potrebbero essere i fan kit, piuttosto che Broadway Celebration. In realtà ogni concerto ha sempre un qualcosa di diverso. E questo secondo me è importantissimo. Ma torniamo al discorso dei pezzi propri. Allora, sicuramente io ho un grandissimo rispetto di chi fa musica propria, anche perché la faccio pure io, ma al di là di questo, credo che sia sempre importante anche avere un atteggiamento umile ed intelligente quando si fa musica propria. Cioè, a prescindere da quello che si fa, ogni tanto a me capita gente che magari mi manda dei brani da arrangiare e io magari vedo che, non so, c'è una parte strumentale, un brano pop, con magari un intro strumentale di un minuto, poi magari a metà c'è un assolo di chitarra di un altro minuto, su un brano pop, lì bisogna metterci le mani. Cioè, lì bisogna stare attenti a quello che succede nel mondo. Quindi è chiaro che a volte le scelte originali sono quelle che pagano, però bisogna, anche nell'originalità, a mio modestissimo parere, è importante essere intelligenti. Però ribadisco, a volte, secondo me un musicista deve avere entrambe queste capacità, sia quella di ricostruire un brano, sia quello di metterci del proprio. Faccio un esempio proprio che mi riguarda. Ho suonato, come ben sapete, per dieci anni con Eugenio Finardi e in alcuni casi lui chiedeva espressamente il brano proprio rifatto, preciso, identico. Vi metto il link del setup che ho utilizzato nel tour celebrativo dell'album Sugo, in cui proprio rifacevamo i brani pari, pari. Lui aveva proprio richiesto questo. Anche lì qualche libertà, magari sui soli, su alcune cose. Tra l'altro lui ci aveva fornito le tracce originali, quindi c'era proprio stato un lavoro da parte di tutti di trascrizione o comunque di interpretazione fedele. Ma sempre con Eugenio, invece, magari all'inizio, ovviamente nella mia collaborazione con lui, ovviamente lui faceva tutto il suo repertorio, anche fatto di tante cose. Quindi c'erano dei brani, per esempio, quelli da Anima Blues, il suo album appunto di blues, in cui ovviamente non si può ragionare rifaccio la stessa cosa del disco. Bisogna interpretare. lì c'è spazio all'interpretazione. Una delle cose belle di suonare con lui era proprio questo, anche questi spazi di libertà, che non sono da tutti, questo bisogna dirlo. E anche con lui poi mi sono ritrovato a fare due album in studio, quindi con del materiale originale, anche a scrivere dei brani insieme a lui. Quindi in alcuni casi era utile apprezzato un contributo fattivo, quindi lui magari chiedeva delle cose, era importante che io cercassi di interpretare quello che mi chiedeva, ma a volte anche era apprezzato appunto che io dessi in qualche modo delle idee. Quindi in un certo senso, nella situazione di Finardi, io facevo le cover di Finardi, e quindi tutta l'esperienza delle cover band era utile, ma anche l'esperienza creativa tornava utile. Quindi la cosa importante secondo me è sempre anche un'altra, anche capire cosa vogliamo fare con la musica. Con la musica noi ci vogliamo divertire, allora suoniamo quello che ci pare, quello va benissimo. Invece sentiamo di avere delle idee e vogliamo lottare fino alla fine per portare avanti le nostre idee, costi quello che costi. E questa è un'altra scelta assolutamente legittima. Oppure vogliamo lavorare con la musica, nel senso di dire, ok io, che è un ragionamento un po' che ho fatto io personalmente, quindi discutibilissimo anche questo, io sapevo che volevo fare il musicista. Questa era la mia cosa. E quindi a volte prendere anche quello che capita. Quindi le cover band, per dire, possono essere una situazione lavorativa, ma anche una situazione lavorativa, come dire, formativa. Quindi nulla esclude l'altra. Per cui a me è capitato di avere la band con cui facevo i pezzi originali e la band con cui guadagnavo, non c'è nulla di male. Quindi secondo me veramente c'è spazio per tutti e l'importante è fare musica. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete commenti fateli e a presto. Ciao! Ciao!